Allora, adesso siamo arrivati all'ultimo intervento, se la regia mi ridà. Lorenzo prima ha parlato di formazione e di competenze. Le competenze è importante anche formarle e allora entriamo con l'ultimo intervento, l'ultimo ospite, andiamo per 5-7 minuti, andiamo tutti a scuola di app, entriamo in una delle accademi più famose al mondo e allora invito a salire sul palco Giorgio Ventre. Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Napoli Federico II e direttore scientifico dell'IOS Developer Academy. È preciso, eh? Sì, è preciso, tre ore ci ha messo. E Apple ha scelto Napoli come sede europea della sua IOS Developer Academy, che forse è anche la più grande. Sì, al momento la più grande. E 5-7 minuti per raccontarci l'atmosfera che si viva all'interno dell'Academy e come voi quotidianamente contribuite proprio alla formazione di nuovi talenti, di nuovi talenti dedicati proprio all'iTech. A te la parola, grazie. Bene, allora, per tutto grazie, grazie di questo invito, di questa opportunità. Dunque, allora, la Apple Developer Academy nasce due anni fa con questo accordo tra Apple e la Federico II. L'idea era quella di creare un posto dove fare formazione, ma formazione su temi nuovi e in modi nuovi. L'obiettivo non è quello di fare dei technology, l'obiettivo era quello di creare delle professionalità di developer, cioè di qualcuno che sia in grado di inventare delle app, di inventare delle app che siano in grado di rispondere a delle esigenze del mercato, dei clienti, delle aziende, degli enti pubblici. Ma farlo chiaramente anche tenendo presente aspetti di usabilità, di accessibilità, cioè nel senso di rendere effettivamente queste app, diciamo, qualche cosa di facile da usare, di efficace, di veloce. Come funziona l'accademia? Funziona su un corso di nove mesi, il corso, diciamo, nasce tutto da un processo di selezione. Noi siamo partiti due anni fa con 200 studenti che abbiamo selezionato, diciamo, in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo la seconda classe che è di circa 400 studenti. Nella selezione dell'anno scorso abbiamo avuto 4.500 domande, abbiamo selezionato 600 ragazzi, abbiamo fatto 600, poi Skype interview, che è stata una delle esperienze più drammatiche della mia vita, e dopo queste 600 interview abbiamo selezionato questi 380 talenti che vengono, il 25% non sono italiani. Quest'anno abbiamo lanciato da qualche settimana la call per il prossimo anno, sempre 380 ragazzi. La cosa impressionante è che vediamo dall'iscrizione che stiamo ricevendo che ben il 60% quest'anno delle domande che noi stiamo ricevendo viene dall'estero. Il percorso, come dicevo prima di 9 mesi, è un percorso basato su una modalità didattica totalmente nuova, che si chiama Challenge Based Learning, che è una modalità, diciamo, elaborata da Apple. L'idea è quella di non avere assolutamente nessuna modalità teorica di insegnamento, si impara risolvendo delle challenge, cioè risolvendo delle sfide. E la cosa divertente è che queste challenge, le principali, che sono 3, diciamo, durante il percorso formativo, vengono scelte dagli stessi ragazzi, cioè sono i ragazzi che individuano la vita di tutti i giorni, la loro esperienza nell'interazione col territorio, identificano, diciamo, delle challenge da risolvere, propongono loro stessi delle soluzioni che discutono con i teacher, con i mentor dell'Academy. E poi, la cosa divertente è che il risultato è loro, cioè la proprietà intellettuale di queste app è loro, quindi loro sviluppano delle cose delle quali lo sono assolutamente imprenditori. Il percorso formativo è un percorso basato su tre, diciamo, filoni. Chiaramente il primo è quello tecnologico, dove si impara coding, si impara tecnologia. Poi c'è un filone ugualmente importante che è quello della user experience, di user interface, cioè dell'accessibilità. E infine c'è una parte un po' più piccolina che è quella legata all'autoimprenditorialità, alla creazione di business e anche al modello di business di app. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di formare, come dicevo prima, dei developer. I developer possono trovare posto in un'azienda, possono anche diventare degli start-up, quindi questo noi lo stiamo seguendo attraverso l'incubatore certificato della Federico II che si chiama Campania New Steel e poi chiaramente possono anche trovare, come molti in questo settore fanno, un loro futuro come freelancer interagendo con soggetti. Nel primo anno noi abbiamo avuto 200 diplomati, di questi 200, 100 in realtà sono ragazzi che sono tornati a studiare perché la cosa divertente è che molti di questi ragazzi decidono di seguire l'academy in parallelo con il loro percorso formativo normale all'interno di un percorso universitario. Gli altri 100, che invece erano intenzionati di andare subito a lavorare, hanno avuto un impatto veramente notevole in termini di successo professionale. In media ognuno di loro ha avuto 5-6 offerti di lavoro, con punti di ragazzi praticamente brillanti, hanno avuto almeno una ventina di offerti di lavoro. Quest'anno abbiamo finito, stiamo finendo quest'anno accademico e il 27 e 28 giugno noi ospiteremo nell'academy quello che abbiamo chiamato la Future Fair, che è un evento dove i ragazzi presenteranno ad aziende, investitori, le loro app, le app che hanno sviluppato e presenteranno se stessi con una job fair che stiamo organizzando con imprese, con organizzazioni, con start-up, eccetera. L'obiettivo è quello di rendere questo sistema di talenti che stiamo costruendo a Napoli, in questo nuovo campus, il campus nuovo della Federico II, San Giovanni, che quasi simbolicamente era sullo spazio occupato alla vecchia fabbrica della Cirio, quindi siamo passati dal produrre pomodori a produrre talenti, che mi sembra una cosa anche più divertente. E quindi in questi due giorni noi cercheremo di mettere a contatto il nostro, diciamo, l'ecosistema dell'academy con l'ecosistema dell'innovazione italiana all'estero. Inutile dire chiaramente che ci sono tantissime richieste di questi talenti che vengono non soltanto appunto dall'Italia, ma vengono da tutto il mondo. Morale e la favola. Morale e la favola è che, diciamo, per fare digital transformation non puoi andare soltanto sulla tecnologia, la digital transformation impatta tantissimo su tanti aspetti, devi aprirti al mondo, secondo un modello assolutamente di open innovation, la cosa più importante è fare in modo che anche il mondo delle competenze, il mondo dell'università si apra, cambia atteggiamento, questo cambiamento non è soltanto un cambiamento teorico, ma richiede un disegno anche e un ridisegno degli spazi, una cosa che siamo riusciti a fare è immaginare un modo nuovo di fare formazione, ridisegnando completamente gli spazi formazione, inutile dire che all'interno della nostra Academy non c'è una sala, non c'è un'aula con un banchi o con cattedri, ma sono soltanto spazi laboratoriali. Grazie ancora e a presto.